Ciao! Piava è di rosto e sono andando a vedere location della terza madre a Torino e vi lascio il link in descrizione di tutte le altre location che abbiamo visitato a Roma e a dopo! Ecco il portone dove piace argento, ferma James eccomi a piazza Filiberto e sto cercando il numero 8 dove precisamente nel film si trova la casa di Michael e il petto sia proprio questo siii ecco la libreria dove Asia si rende invisibile via Pant 9B wow 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 qui sono alla chiesa di batu ad andezzeno e questa è la chiesa dove va adam james per cercare di aiutare il monsignor busca che è stato colpito dal malore dopo aver trovato la tunica di mater amicettino chissai vattene scattiva vattene ok c'è il gattino che mi segue perfetto sono al cimitero di andezzeno spacciato nel film come il cimitero di viterbo e qui ci dovrebbe essere il punto dove scavano la buca da dove viene estratta l'urna eccolo l'ho riconosciuto da questo è il punto dove straggono l'urna è proprio quello lì il video delle location della terza madre a torino termina qui spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo episodio ciao ciao